Una nuova apertura a Messina di una filiale Mediolanum che diventa anche un'opportunità di lavoro. Sì, un'opportunità di lavoro per i giovani messinesi che sono persone molto preparate, ho l'esperienza diretta di molti siciliani che lavorano a norme, nella finanza e sono sempre tra i milioni, hanno grinta, hanno capacità, hanno volontà e anche Mediolanum vuole dare la possibilità a tanti giovani messinesi siciliani e di poter lavorare rimanendo qua nella loro terra per dare impulso alla crescita, alla ridastria di questa terra che ha tanto bisogno delle forze giovani. Quindi proprio una volontà di investire sul territorio. Sì, una volontà di investire sul territorio. Ieri abbiamo inaugurato la filiale di Caltagirone, abbiamo fatto una convenzione con la diocesi di Catania per essere a fianco alla lotta contro l'usura. domani saremo a Palermo dove da anni siamo tra i sostenitori della fondazione anti-usura Santi Mabigliano e Santa Rosalia. Proprio Banca Mediolanum crede molto alla Sicilia. Siamo presenti con oltre 430 consulenti finanziari. È una terra di elezione per Banca Mediolanum. Quindi immagino che ci saranno anche nuove aperture e comunque anche un piano progettuale futuro. Sì, sempre la Banca Mediolanum non ha limite alla crescita, la crescita dipende da noi stessi e i dati di questi ultimi anni ce lo testimoniano. La Banca Mediolanum ad esempio nel comparto dei mutui alle famiglie ha una quota di mercato del 10%. Una cosa molto bella è che la qualità di questi crediti è in linea con la qualità nazionale. Questo sta a sfatare le solite dicerie che a sud il credito è più difficile. Non è vero. La qualità del credito, se è fatto bene in Sicilia, è esattamente pari, se non superiore a quello fatto in Lombardia o in altre regioni dell'Ord Italia.